Ciao ragazzi, dunque Juventus che batte l'Udinese alla Dacia Arena per 2 reti a 0 terza vittoria su 4 partite alla Dacia Arena da quando esiste la Dacia Arena, cioè da quando Friuli ha cambiato struttura e denominazione e beh insomma, insomma, bella partita, bella Juve, bella tutto, bella atmosfera insomma Juve che è giocato tranquillo, non è riuscita a far girare la palla come piace a molti nel senso comunque, velocemente, mettendo in difficoltà l'Udinese seppur l'Udinese abbia messo in campo un sacco di difessori insomma, credo che abbia fatto proprio un catenaccio di quelli purissimi credo che sia la prima volta che vedevo in vita mia il 5-5-5 di Oronzo Canà e niente, e cosa potevo dire? insomma, 5-5-5 perché veramente questi giocavano con 5 difensori, 5 centrocampisti, 0 attaccanti quando attaccavano i 5 centrocampisti venivano un attacco quindi veramente, guarda che poteva mettere in difficoltà se non si sbloccava subito l'ha sbloccata a Bentancur e niente, poi alla fine, l'ha chiusa a Ronaldo con un grandissimo gol di sinistro poi la Juve, diciamo, poteva finire nettamente più ampio il risultato se non fosse che il signor Scuffet ha fatto dei miracoli davvero strepitosi tra l'altro la Lodinese ha rischiato di segnare all'inizio secondo tempo l'unico brivido della partita l'ha avuto Lasagna poi per il resto, insomma, direi che la Juve l'ha vinta comoda 10 su 10, compresa la Champions, ma soprattutto 8 su 8 in campionato vittoria importante comunque in trasferta e cammino che prosegue questa Juve dà veramente la sensazione di poter battere chiunque in qualunque momento e questa credo che sia forse una delle note più liete oltre al fatto che quest'anno ci sta facendo divertire nel vero senso della parola vi saluto e vi do appuntamento con i prossimi video ciao